Quella che vedrete è la storia di un italiano, di un nostro connazionale, una storia triste, una storia di disagio economico, di emarginazione sociale, di disperazione. Troppi sono i nostri connazionali che stanno vivendo in queste condizioni, eppure lo Stato pensa solamente agli immigrati, ai nomadi, agli stranieri, probabilmente perché nella maggior parte dei casi ci mangiano sopra. Noi di Riva Destra vogliamo creare un centro per l'ascolto, un centro per il sostegno, solamente per italiani, solamente per i tanti connazionali che non ce la fanno più e ai quali, se lo Stato è assente, abbiamo il dovere di connazionali appunto di fargli sentire la nostra presenza. Faremo di tutto, busseremo alle porte di ognuno, cercheremo di aiutare altri italiani. Basta con l'elemosina di stranieri, pensiamo ai nostri connazionali. Mi chiamo Carlo Stragliati, sono andato a Roma, ho 53 anni e ormai da quasi 10 anni vivo dentro una macchina, dopo aver avuto prima una trombosi e poi una serie di vicissitudini familiari che si sono accavallate a questa trombosi, tipo la morte di mio padre, poi la separazione dalla mia seconda compagna e mi sono trovato dopo un infarto poi a non riuscire più a riprendere il lavoro perché non avevo più liquidità. Purtroppo ci sono tanti come me che ormai dopo tanto tempo non sono più in grado di farlo perché ormai si sono dati all'alcol, si sono dati a qualche altro operativo per non pensare che questa vita ti porta solo a soffrire, a pensare solo cose brutte. Ho un assegno di invalidità in quanto la mia invalidità è superiore al 74%, questo segno di invalidità è pari a 290 Euro, 290 Euro per vivere fuori casa durano 10 giorni per vivere fuori casa, vivendo dentro casa sarebbe diverso, prima con 5 Euro pranzo, cena e mangiare anche il giorno dopo, quando vivi in macchina purtroppo queste cose non puoi farle, non ti puoi cucinare da solo e le mense di cui si parla tanto, prima di ritrovarmi in macchina spesavo esattamente 35 kg di meno e grazie a queste mense che sono ridotte in questo modo perché quello che viene cucinato è, grazie a Dio uno dovrebbe dire che ti danno da mangiare, sì è vero, ringraziamo Dio che non ci danno da mangiare, non ci vado da anni oramai perché mi sono rovinato proprio con queste cose, d'altronde purtroppo con 290 Euro al mese non puoi permetterti di andare neanche a mangiare in una tavola calda, niente, devi mangiare panini a pranzo o panini a cena. Non ti fa un po' rabbia vedere che lo Stato italiano non aiuta le persone come te, chissà quante altre storie potrai raccontare in questi 10 anni di macchina, chissà quante disavventure avrai visto anche in altre persone che si trovano nelle stesse condizioni, non ti fa rabbia che le persone che vengono da fuori sono molto più assistite e aiutate rispetto a noi italiani. Mi dispiace dirlo, come credente devo dire che comunque sì mi fa rabbia, chiaramente vedere che c'è gente che viene da fuori, che come arriva c'ha l'albergo a 4 stelle, c'ha i telefonini che si lamenta addirittura delle lasagne perché non gli piacciono o del percorso da fare per andare a mangiare, io vorrei dire ok, compratevi una macchina se ci riuscite, vi vede in macchina e andate avanti senza manco i soldi, senza manco quello perché ci sono italiani come me e come tanti altri che dopo aver lavorato per tanti anni e aver fatto purtroppo per cento la professione libera e di conseguenza non avere nessuna garanzia per il futuro, ma ci sono gente come me che lavora, ha lavorato e oggi si ritrova dormire dentro la macchina, c'è rabbia perché vedo che lo Stato, ripeto non invidia ma rabbia, perché vedo che lo Stato non tutela i suoi cittadini ma pensa prima agli stranieri e questo mi fa dispiacere più che rabbia, mi sento abbandonato dalla mia nazione, dal mio Stato, dalla mia città, dai miei concittadini, dai miei compatrioti, perché quando hai un problema non sai a chi rivolgerti, non sai come risolverlo, se lo vuoi risolverlo devi risolverlo come ti dice lo Stato, non è mai come una cosa che è quella che a te sai bisogno, perché io adesso ho bisogno di alcune cose che lo Stato non mi dà, dovrei fare delle analisi che prevedono delle preparazioni di alcuni giorni prima e lo Stato non mi dà un posto dove andare a dormire, a mangiare determinate cose perché devo prepararmi per quell'analisi e dopo due giorni devo continuare a mangiare determinate cose, per cui anche chi sta male poi vive in questa situazione e la malattia se la deve tenere, non ha la possibilità di guarire, più di una volta è successo che io purtroppo non sono molto bravo a dare una nazionalità ben precisa, però mi sembrava che fossero in questo caso nordafricani che mi hanno aggredito sempre vicino a Lungotevere dove dormo, questa volta però fortunatamente erano due persone da soli e essendo ancora in forze qualche anno fa, due o tre anni fa, oggi con queste gambe non riuscirei proprio a reggermi in piedi e a sopportare un'aggressione e un altro paio di aggressioni le ho subite sempre quando dormivo al parco di Villa Madama, però fortunatamente senza conseguenze, le più brutte sono state queste di questi guardoni che volevano lasciarsi il posto e queste di questi russi che ubriachi, ma poi molti sono riusciti a evitarli andandomene via insomma. Hai mai avuto cattivi pensieri? Sì, sì, li ho avuti più di una volta, ma li ho avuti perché io non ho vizi, non bevo, non uso sostanze stupefacenti per cui sono lucido e allora mi rendo conto alle volte che non c'è via d'uscita questa situazione, se non una presa di coscienza da parte delle istituzioni, delle persone, presa di coscienza ripeto che non deve valere soltanto per me, ma deve valere per tutte le persone che come me possono ancora essere un valore aggiunto per lo Stato. In certi momenti ti rendi conto che queste cose non avverranno mai perché ti dici ma se non è avvenuto in dieci anni perché dovrebbe avvenire nei prossimi dieci, sì ma nei prossimi dieci anni in queste condizioni, con le gambe che mi ritrovo, con il cuore che mi ritrovo, non li campo, non li voglio neanche campare perché in questo modo è disumano e andare nei centri d'accoglienza dove ci stanno le feci sui muri e a dormire con 40 petri nei bagni, se voi andate nei centri d'accoglienza senza avvertire, trovate le feci sui muri nei bagni e vi posso portare anche le testimonianze di queste e a dormire con 40 persone che purtroppo non sai che malattie c'ha non è niente, ma molta gente che è uscita dai centri d'accoglienza è uscita con la tubercolosi o con l'epatite virale, i lavori che posso fare io purtroppo sono l'autista, il custode, peraltro dove ci sia pure un alloggio perché non posso certo lavorare vivendo dentro la macchina, non potrei far mai neanche una doccia, purtroppo sì ho avuto questi momenti di brutti pensieri, uno devo essere sincero recentemente, ce l'ho avuto più di una volta e una volta sono anche arrivato al punto di quasi riuscire a farlo se non arrivava la Polizia che mi fermava, che ha capito la situazione e siccome le forze dell'ordine in questi casi bisogna fargli un plauso perché si rendono conto, vivono la realtà della strada e si rendono conto di come stanno le cose, non hanno proceduto oltre, hanno chiuso un occhio e hanno fatto finta di niente, però quella volta mi hanno veramente salvato la vita perché stavo veramente sull'orlo. Carlo questa tua ormai quasi cronica situazione di bisogno, di disagio, ti sei mai trovato alle istituzioni vicino, consiglieri comunali, consiglieri regionali, sindaco, qualcuno che ti stesse vicino e che facesse qualcosa per te, hai fiducia nelle istituzioni italiane? Assolutamente no, ma non voglio che questo mio assolutamente no passi come un luogo comune perché è facile oggi lamentarsi o sentire la gente che si lamenta delle istituzioni, io non so perché la gente si lamenta delle istituzioni, so per quale motivo mi lamento io, so per quale motivo si lamenta tante altra gente che vede l'assenza delle istituzioni, io ho un'assistenza sociale che mi è stato assegnato dieci anni fa che vedo una volta l'anno ma perché vado io da lui, non perché mi aiutami qua a vedere come sono, questo assistente sociale che presumo, non so come vengono pagati, se sono assistente sociale del comune, se vengono pagati per ogni tot numero di persone che assistono, non lo so, questo non lo voglio neanche sapere, sono soltanto che io in dieci anni questo assistente sociale lo vedo una volta l'anno perché vado io da lui, non perché è venuto da me, per quanto riguarda altre persone delle istituzioni tolte le forze dell'ordine che sono state eccezionali fino adesso perché mi hanno sempre, diciamo, non aiutato perché non voglio usare un termine sbagliato, però mi hanno sempre comunque, che ne so, la sera passano, ormai bene o male ci sta tanto tempo in questa zona mi conoscono, tutto bene Carlo, è tutto a posto, sì stai bene, se ne vanno quelli non tutte le sede chiaramente, due o tre volte a settimana questo succede, ma è una cosa episodica, così una tantum per quanto riguarda le istituzioni avrebbero potuto aiutarmi. Questo governo attuale di sinistra con Renzi va promettendo che la situazione economica italiana migliorerà e quindi ci potranno essere degli aiuti per le fasce più deboli, nel contempo la Boldrini va annunciando Urbis e Torbi che occorre dare assistenza prioritaria a queste orde di immigrati che hanno invaso di fatto ogni giorno sempre di più in Italia. Credi che siano conciliabili queste due posizioni? Credi che ci possa essere un qualche sviluppo, una qualche speranza per gli italiani o le speranze sono riservate esclusivamente agli immigrati? Assolutamente no, non credo a queste cose, gli immigrati hanno la precedenza perché lei ha nominato la Boldrini, l'ha nominata lei e io le dico che la Boldrini fa comodo che vengono aiutati più gli immigrati degli italiani perché il nostro paese è un paese pieno di ben pensanti finti che adorano parlare e dire che dobbiamo ospitare, però a casa loro non ospitano nessuno. Hai provato vergogna in questa intervista? Assolutamente no. Davanti a tutta la gente che ti vedrà, cosa hai da dire? Davanti a tutta la gente che mi vedrà ho da dire che ho detto quello che è la verità, ho detto le cose come stanno, ho detto come stiamo messi in questo paese. A tanta gente che grazie a Dio, come ero io anche quel fila un anno fa, dormo dentro una casa, ho un lavoro, ho detto che fuori dalla loro vita quotidiana c'è un sottobosco di disagio che provoca dolore, non solo fisico, ma un dolore anche forte spirituale e morale e la nostra dignità di esseri umani deve essere trattata innanzitutto da noi stessi, ma quando tu vedi che una persona da sola non ce l'ha fatto trattare la propria dignità, è un tuo dovere secondo me, se tu poi ti senti in dovere ad aiutare gente che viene da fuori, di ospitarla, di spendere tanti soldi per non farla stare male, ha anche il dovere di venire da me e di dimmi Carlo di cosa hai bisogno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.